Una riproduzione dello storico stemma dell'Aquila consistente in un'Aquila ad ali spiegate in bronzo è stata consegnata questo pomeriggio dalla Onlus 360 gradi solidale agli operatori del numero unico per le emergenze, l'112, in riconoscimento del lavoro svolto a supporto delle persone in difficoltà e bisognose d'aiuto. Il premio è stato consegnato dal presidente fondatore della Onlus Aquilana, Fabrizio Salvatore. Diciamo che questa nuova centrale d'Aquila prima di tutto è un orgoglio per la città perché è a livello regionale e sono nuovi posti di lavoro per ragazzi e ragazzi che si invegnano al bene comune. E questo lo stemma storico l'abbiamo dato in presenza anche ad altri enti che praticamente dedicano la propria vita al benessere comune. A ricevere il premio il direttore del NUE Mauro Casinghini nel corso di una breve cerimonia che ha avuto luogo proprio nella sede del servizio d'emergenza all'Aquila in via Salaria Antica. Intanto è il primo riconoscimento che il numero unico di emergenza riceve, siamo veramente contenti di riceverlo dall'associazione 360 gradi solidale che ha voluto riconoscere lo sforzo di questi ragazzi, di questo servizio innovativo per la regione che ci mette anche alla pari di tante altre regioni che sono all'avanguardia su questo aspetto.